Musica Oggi per la rubrica 5 minuti con parleremo di ristorazione e lo faremo con Mario Falco, Chef, presidente dell'Associazione Cuochi del Gargano e della Capitanata, nonché consigliere regionale e nazionale della Federazione Italiana Cuochi. Benvenuto. Grazie, bentrovati. Bentrovati a tutti. Presidente, dunque, parliamo del nuovo DPCM uscito da pochissimo, firmato da pochissimo. Ecco, cosa si aspettava, o meglio, se l'aspettava così come è stato firmato, ovvero, praticamente non cambia quasi nulla? Non cambia quasi nulla e le attese più o meno erano queste. Un po' di dispiacere c'è, però c'è anche tanta consapevolezza, perché insomma vediamo tutti che i numeri ci dicono di stare ancora un po' tranquilli, faremo questo sforzo, ovviamente l'abbiamo fatto fino adesso. C'è da dire che comunque c'è tutta una situazione, ovviamente io non sono tecnico per quanto riguarda la funzione del governo, perché comunque il discorso è ampio, non è settoriale, voglio dire. È logico che qualcosa possa sfuggire anche ai tecnici quando si va a realizzare un documento che deve racchiudere tutte le professioni, quindi qualcosina è sfuggito. È ovvio che l'elemento principale è quello di contenere il contagio, e questo attraverso la limitazione dello spostamento del movimento delle persone in genere, quindi non è ristorante, questo ci teniamo a puntualizzare, perché non vogliamo essere visti come gli untori o il luogo dove ci si contagia, quindi non è il locale, non è il ristorante, non è l'albergo, ma è semplicemente evitare lo spostamento delle persone. Cercheremo di organizzare al meglio anche questa nuova situazione, c'è tanto da lavorare ma sulla nostra mentalità, oltre che sull'adeguamento al DPCM, quindi la situazione del settore è ancora un po' complicata e quindi va ancora ragionata. Si sta dando spazio al food delivery, come stiamo messi in Italia e in Puglia? Allora, questo appunto, come dicevo prima, già dalla prima ondata noi con le dirette, quindi eravamo di supporto ovviamente alla categoria, ma ai nostri iscritti principalmente, avevamo già indicato la strada appunto del delivery. Qualcuno lo faceva, però non era strutturato proprio per la consegna, oppure, perché non è semplicemente la consegna, consegnare il cibo a casa, ma è consegnare il cibo buono e intatto a casa, quindi trasferire lo stesso gusto, lo stesso sapore che troviamo al ristorante e trasferirlo a casa. Questo è l'elemento principale, perché poi a consegnare i cibi lo potrebbero fare tutti o lo possiamo fare tutti, quindi l'intenzione era questa. Quindi l'organizzazione stava proprio nella produzione di questi pasti e nella tecnica di produzione quindi adeguata per il trasporto, quindi vuol dire anche packaging e tutto quello che riguarda proprio la parte di sicurezza del cibo. Quindi già dalla fase, come dicevo, dalla prima fase avevamo già date indicazioni su come comportarci, quindi molti si sono adeguati, ma molti hanno recepito questa direttiva, molti hanno visto, lo possiamo definire il lato positivo, ma ne hanno tratto un momento di formazione, quindi essendo fermi, essendo costretti a non lavorare, da questo momento hanno fatto un momento di formazione, quindi si sono formati, hanno fatto corsi di formazione, si sono informati, hanno affinato nuove tecniche, quindi la preparazione, diciamo, professionale ne ha aumentata. Adesso aspettiamo solo il momento in cui ci si potrà esprimere al meglio, e quindi mettere in campo e in atto tutto quello che si è potuto trarre di buono da questo momento dove tutti eravamo fermi. A parte la chiusura, quanto ha influito invece il fatto che si siano fermate le mense scolastiche, perché ovviamente molte scuole hanno dovuto mettere in pratica, attuare la DAD, e quanto ha influito anche lo smart working, quindi la riduzione delle mense aziendali? Ha inciso tantissimo, soprattutto sulla formazione professionale, perché questo tipo di professione va fatta, cioè va sviluppata, non è solo teoria, come noi facciamo di tutto per fare formazione, attraverso anche la teoria, attraverso la DAD, come viene definita attualmente, però se non ci si sporca le mani, praticamente, se non si ha il contatto con il prodotto, con la materia, non si sentono i profumi, le consistenze, è difficile poi effettivamente formarsi e informarsi sul mondo dell'enogastronomia in genere, perché veramente i prodotti hanno bisogno di contatto. Certo. In chiusura, come sarà la ristorazione post-Covid? La ristorazione post-Covid sarà sicuramente spinta da una grande voglia di fare, perché tutti questi mesi, questo tempo fermo, ha dato una carica positiva a tutti i ristoratori e mi auguro, appunto, che, una nota piccolissima di polemica, che questo momento sia stato un momento anche di riflessione per tutti quelli che organizzano poi il lavoro, e parlo appunto dei datori di lavoro, ma degli albergatori in genere, quindi un attimino di riflessione per rivalutare il tipo di lavoro e anche il lavoro sviluppato dai dipendenti. Quindi, insomma, riorganizziamoci al meglio. Benissimo. Grazie mille per essere stato con noi e noi vi diamo appuntamento alla prossima di 5 Minuti Con. Grazie. Grazie. Grazie.